Eccoci qui dallo stand AngelBird. Oggi siamo qui con Roman che ci spiegherà le novità di prodotto. Ciao Roman, come sei? Ciao, come stai? Tutto bene. Cosa è nuova a TBC? Cosa è nuova? Credo che ci siamo nuova sono la CFexpress Type A. Ora abbiamo rinforzato la versione SE, o la linea SE, dove abbiamo 160 GB in capacità e 330 GB in capacità. È sufficiente. È sufficiente, soprattutto per le fotografie con il VPG 200, quindi può rinforzare tutte le necessità di Sony. È un prodotto molto piaciuto, è un prodotto molto robusto. È un start. Cosa c'è la vendita, il formato è molto buono di gigabyte, è ora ok. La versione del 1 terabyte è stato molto grande, ma ora abbiamo la right choice. Esatto. Quindi abbiamo dato il prodotto che abbiamo ricevuto molti richiesti, capacità bassa, un taglio di prezzo diversi, e qui è questo. AngelBird propone anche delle microSD V60, che ovviamente offrono performance fuori dal comune. Quindi potrete utilizzare la vostra microSD, con l'adattatore in dotazione, che è già UHS-II compatibile, anche nelle vostre camere. Con un'unica scheda potrete utilizzarla su vari supporti, dai droni, alle altre performance, fino alla vostra camera. Atom-X, Atom-X Mini, con un'unica scheda di 2 terabyte. La standard capacità è ora di 1 terabyte, con cui puoi usare. Ovviamente è molto robuste, come i nostri prodotti sono. Ma anche, molti usici non conoscono il nostro lettere. Quindi è un lettere molto facile, con un lettere, con un lettere sata, con un USB-C. e abbiamo anche un'attività di potenza, quindi se avete in studio, per esempio, un'ultima, 5.4 inch hard drive, che hanno bisogno di più potenza per girare, lo puoi usare con l'adattatore sul tuo computer standard, con il tipo C. Lo uso. Lo uso. Molto unico. È molto veloce e molto usabile, perché il tavolo è molto lungo. Sì. E una piccola aggiunta, gli SSD ovviamente sono certificati per il RAW con i Ninja, grazie alla dissipazione del calore tramite l'alluminio per conduzione. Per i lettori, è importante migliorare il firmware delle cartelle. Sì, è vero. Quindi, se ci avessi un'update di firmware per le nostre cartelle, specialmente nel tipo B o nel tipo A, dove ci saranno anche un'update di firmware, qui, questo può essere usato, ma necessitiamo dei nostri lettori. Le lettori sono in SD, Type A, Type B e anche in C-Fast, dove, come ho detto, le update sono principalmente in Type B o Type A. Sì. Do you love the alluminio? Very much. I lettori della Engelbit in alluminio, oltre ad essere velocissimi, permettono l'upgrade del firmware sulle schede di tipo CF Express Type B e Type A. Quindi abbiamo la possibilità di upgradare il firmware e seguire costantemente l'evoluzione delle vostre camere per avere sempre il massimo delle performance. Vi ricordiamo che con le schede Engelbit c'è sempre il supporto e il recupero dei dati in caso di formattazione accidentale e c'è un servizio assistenza veramente al top. Grazie a Roman. Grazie Roman. Grazie. See you very soon at Next ABC. For sure. Take care. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.